Sono Vito Quarato, questa masseria è prettamente agricola e zootecnica. Tutti i prodotti caseari sono prodotti all'interno dell'azienda stessa perché l'azienda ha oltre all'allevamento anche un casevice aziendale. Facciamo prodotti esclusivamente in modo tradizionale, tipologie di prodotti tipici solo di queste zone. Abbiamo all'allevamento bovino, ovi caprini, abbiamo anche dei cavalli di razza murgese, abbiamo dei maiali, oltre ai seminativi dedicati ai foraggi coltiviamo anche grani e poi abbiamo una parte di oliveto, circa 10 ettari. Questi sono obiettivi che ci siamo posti da qualche anno e stiamo cercando di incrementare sempre di più, dare conoscenza e cercare di valorizzare sempre più il prodotto. Noi siamo Masseria Marangiosa, noi siamo terra dei Messari.